Buonasera da Daniele Loporto, notiziario flash di Free Press Online del 22 settembre 2022, candidata ed ex assessore ai domiciliari Barbara Mirabella, già componente della Giunta Pogliese al Comune di Catania, imprenditrice e candidata all'Assemblea regionale siciliana e agli arresti domiciliari sul provvedimento del giudice per le indagini preliminari. L'indagine riguarda il Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia, tenuto a Catania nel settembre dell'anno scorso. Secondo la Procura della Repubblica, Mirabella avrebbe ricevuto 10.000 euro per i suoi buoni uffici tra le amministrazioni interessate, Comune e Città Metropolitane e gli organizzatori. Per l'Avvocato Enrico Trantino sono invece compensi per servizi prestati. Dura reazione dal centro-sinistra con Claudio Fava del Movimento Cento Passi e Dinuccio Di Paola, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione. La bambina non respira, i carabinieri fanno da aprestrada. Madre nel panico per la crisi respiratoria della figlia di un anno e mezzo e per di più imbottigliata nel traffico, provvidenziale l'intervento di una pattuglia dei carabinieri che ha fatto da staffetta all'auto della donna che così ha potuto raggiungere in pochi minuti da Lineri, frazione di Mister Bianco, l'ospedale Garibaldinesima dove la piccola è stata soccorsa e posta fuori pericolo. Acciaierie siciliane si riparte avanti ad agio per l'industria siderurgica di Catania che dopo la firma del decreto energia ha riacceso gli impianti. Questa, come le altre attività energivore in Sicilia e Sardegna, potrà utilizzare costi calmerati per l'energia elettrica. Sono circa 500 i dipendenti diretti di acciaierie siciliane con un vasto indotto. Quello di Catania è l'unico impianto siderurgico del centro-sud. Superati i 9.000 abbonamenti, cresce l'entusiasmo per la nuova squadra rossa-azzurra dopo l'esordio vittorioso in trasferta nel campionato di Serie D. È ripresa infatti la vendita dei tagliandi. Obiettivo della società del Catania a questo punto è superare quota 10.000 anche in relazione all'aumentata capienza dello Stadio Massimino. La squadra etnea giocherà in casa mercoledì 28 alle 20.30 contro il San Luca. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e i nostri canali social. Il prossimo notiziero flash domani alle 20.30.